Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania. Oggi voglio condividere con tutti voi la ricetta ed il procedimento per realizzare la merendina Kinderfet al latte senza lattosio. Per questa preparazione utilizzerò la ricetta dei brownies, di cui vi lascio il link al video che ho postato qualche tempo fa. Gli ingredienti per realizzare questa ricetta sono solo due. Una base pan di spagna al cioccolato, nel mio caso quella del brownies, e la farcitura sarà la crema di latte senza lattosio che ho preparato nel link che vi lascio qui su. Ho cotto i brownies in due tagliere della dimensione di 20x20, quindi due piccoli quadrati. Cospargo la crema di latte su tutta la superficie e ne metto parecchia perché il risultato finale deve essere bello spesso. Vi aiuto con una spatola in modo da riempire ogni parte. Soprappongo l'altro quadratto. Ho cotto dei brownies e cerco di farlo aderire ben bene. Visto che i bordi non sono perfetti, con un coltello rifinisco il quadrato e taglio a dimensione. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ecco realizzate le mie Kinder Fettal Latte Homemade senza lattosio. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente. E per non perdere nessun video, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto.